Ti sei ripreso la fascia perché era tua o te l'ha ceduta a coda, com'è? Degno capitano, ti vogliono ammazzare in tutti i modi, chi ti prende le costole, chi ti... Salve, salve, ciao. Ciao. Incerrottato sempre. Sempre incerrottato. No, ti dicevo che mi è stata data, penso, dal mister. Per me è un onore rappresentare la società, questa squadra di tutti i bravi ragazzi e sono fiero di questa cosa. Prima Lorenzo Del Tinto diceva che era soddisfatto di questo pari. Onestamente tu che hai preso più parte, anche con qualche problemino a questa ultima fase del Benevento dove veramente a livello di punti ha raccolto pochissimo, se non ero nelle ultime quattro partite, due soli punti. Non vorrei sbagliare. Sei soddisfatto magari del pareggio per le occasioni che ha avuto il Cosenza? Oppure effettivamente è un Benevento che ancora non riesce a ritrovare quel gioco che lo aveva accompagnato nelle prime partite, che lo connotava un po' come squadra che poteva puntare ai piani alti? Ti dico che noi siamo una squadra per puntare in alto. Noi facciamo ogni partita, diamo tutto. Dispiace per oggi che secondo me è un risultato per noi positivo, visto il campo, visto gli infortunati che abbiamo. Devo dire che la squadra è scesa in campo e ha dato tutto il massimo e portiamo a casa questo punto, senza nessun rammario. Errata Corrige, devo dirlo, tre punti, mi ero persa la vittoria, quattro punti, attenzione, più la vittoria del Perugia. Io mi ero persa la vittoria sul Perugia. Esatto, quindi due punti nelle ultime tre partite, cinque nelle ultime quattro. Cinque nelle ultime quattro. Io avevo contato quattro punti, avevo contato una sconfitta col Perugia, per carità signore. No, quella no. Vai Antonio. Quella è andata bene. Gaetano, allora tu parli di punto guadagnato e sono d'accordo, però io credo che con un campo diverso forse ve la potevate giocare anche diversamente, premesso che il Cosenza ha impostato il suo match anche oggi, nonostante il terreno pesante, sulle ripartenze. Quindi chissà se con un campo più leggero non avrebbe potuto farvi male ugualmente. Infatti sono d'accordo Antonio, con un campo buono penso stiamo parlando di un'altra cosa, può essere pure che perdevi la partita, sicura può essere, però ti dico con un campo così è molto difficile dare quello che sei tu squadra, quindi ci portiamo a quasi questo punto. Ancora una volta, ecco abbiamo parlato in termini negativi, prima abbiamo fatto una lunga analisi anche con Bucchi, diciamo che non c'è alcuna gioia né alcuna sfilata per questo punto, però mi piace rimarcare anche stasera un aspetto abbastanza importante. Ancora una volta un arbitraggio casalingo contro il Benevento in trasferta, questo arbitro assolutamente inesperto, secondo anno, che al 34esimo del primo tempo ha falsato nuovamente il match, perché quella comitata che vedete i segni sul volto di Gaetano Litizzi è stata data da Dorazio che era già ammonito. Giusto Capitano? No, sono d'accordo, però non posso dire niente, è stato un scontro di gioco, non l'ha visto, purtroppo l'arbitro è anche umano, può sbagliare, però noi non ci attacchiamo a queste cose. Come ti dicevo prima, non ci dobbiamo rammaricare per questo punto, perché a parer mio abbiamo fatto anche, diciamo, tra virgolette una buona partita, tutta la squadra si è sacrificata, l'importante era non perdere, poi recuperiamo gli infortunati che ne abbiamo tanti, siamo a quattro punti dalla seconda, noi le somme le tiriamo a maggio. Però devono giocare stasera. Gaetano, ultima considerazione, la tua sensazione ieri quando Pilli Teri, si è visto anche dalle immagini televisive, puntava a non far giocare la partita, era che anche quelli del Cosenza erano contenti per il rinvio? Come tua sensazione? Non è una domanda da tribunale. No, tutte e due le squadre abbiamo deciso perché era impraticabile ieri giocare quella partita, è impossibile giocare. Anche oggi abbiamo fatto un po' di fatica, immaginate ieri.